Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo cercato sempre di giocare dal portiere, abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo avuto delle buone indicazioni, i ragazzi erano carichi però hanno dato vita a una partitella importante dove ho potuto avere dei notevoli miglioramenti. Noi stiamo lavorando su questi due sistemi di gioco, poi vediamo anche la settimana prossima chi sarà meglio ho la fortuna di poter scegliere, quindi vedremo poi in settimana quale sistema adottare. Carlo ha fatto le sue scelte, è da rispettare, ora ci concentreremo sui giocatori che abbiamo noi, Sereni e Burzigoti sono due ragazzi che stanno facendo un gran lavoro in ritiro, penso che non ci siano problemi per la loro permanenza e quindi valuteremo poi in settimana. La società mi metterà nelle condizioni sicuramente di poter scegliere, quindi io sono molto tranquillo e sereno sotto questo punto di vista. Sicuramente è una punta prestante, una punta che vada molto in profondità, una punta che ci dia una mano a fare reparto. La società, il direttore sa dove intervenire, sappiamo che il mercato è talmente lungo e il mercato entra nel vivo nel mese di agosto, quindi non c'è nessun tipo di problema in questo momento. Alla fine ho la fortuna di avere un direttore molto importante che sa il fatto suo e quindi che ci darà soddisfazioni in questa sede sicuramente. Grazie. 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 Grazie.